Cura delle malattie rare nella nostra regione, oggi Assessore Paolucci se ne è parlato a Pescara, avete presentato questa rete regionale davvero di grande valenza. Sì, sono molto orgoglioso. Conta uscire dal commissariamento, conta ovviamente recepire gli atti prontamente come la regione sta facendo su diversi percorsi assistenziali, conta anche dare delle risposte ulteriori rispetto anche al quadro dei regolamenti nazionali. Noi qui diamo la possibilità alla regione Abruzzo, alla nostra comunità regionale di usufruire di integratori, di farmaci ulteriormente anche rispetto a quanto previsto dai regolamenti nazionali. Conta avere una vera e propria rete che in questo caso riguarda i bambini, riguarda ovviamente le tante famiglie, riguarda uno screening esteso e nella rete si definiscono i centri di riferimento collegati ai percorsi nascita e punti nascita, collegato ovviamente anche agli altri presidi. Allo stesso tempo si rende questo percorso assistenziale più garantito. Vuol dire salvare vite umane e in questo caso vuol dire salvare la vita di tanti bambini. Noi abbiamo nella nostra regione 5.431 pazienti che hanno già problemi con le patologie rare. In più essendo delle patologie che hanno una ben definita incidenza, questo significherà che nella nostra regione avremo ogni anno da 4 a 500 pazienti nuovi. A tutte queste persone noi abbiamo voluto garantire con la rielaborazione della rete regionale, abbiamo voluto garantire una certezza di diritti e quindi tutti i pazienti sapranno i farmaci, i dispositivi, i presidi diabetici, gli integratori e i dietoterapici a cui avranno diritto in termini di assistenza. E questo non era né facile né scontato in quanto le direttive nazionali rinviavano ai provvedimenti delle singole regioni. Abbiamo voluto dare certezza di punti di riferimento, quindi ogni ASRA avrà l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale i presidi ospedalieri, le unità operative e addirittura l'identificazione dei medici che saranno responsabili nella presa in carico del paziente.